Bruno Di Tamburi, Squillo, Di Chiarine fervono i preparativi per l'evento Tensione Bronze e ha il campionato federale di musici sbandieratori, i tamburini e i chiarini organizzano da Borgo San Panfilo. La manifestazione che vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da ogni parte d'Italia si darà in piazza Garibaldi domenica 10 luglio con inizio alle 10.30. Le gare si susseguiranno durante tutta la giornata per concludersi con la premiazione alle 17.45. Grande entusiasmo da parte dei ragazzi e del capitano Paolo Alessar Androni oggi in sala consigliare nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento cui ha partecipato anche il commissario reggente della giostra Maurizio Antonini. C'è tanta voglia di ricominciare, divertirsi, ripartire alla grande. Siamo onorati e orgogliosi, come ho già detto. Faremo conoscere questa bellissima città a questi atleti. e veramente ringrazio di cuore il sindaco, il vice sindaco, l'assessore D'Andrea, la consigliere regionale Antonietta Laporta di essersi stati in questo momento veramente vicini, il vice sindaco Casciani. Grazie, grazie di cuore per poter darci la possibilità di realizzare questa manifestazione.